Caterina Loprete, candidata in Regione Lombardia, a febbraio ci saranno le elezioni. Allora, sei candidata su Lecco, perché ti sei candidata su Lecco? Perché? Io sono residente in provincia di Como, ho tanti amici in provincia di Como, avrei avuto buone possibilità di reclutare diverse preferenze in provincia di Como, ma io lavoro su Lecco, sono l'assessore del comune di Bosisio, che appunto fa provincia di Lecco, ho sempre lavorato, insegnato presso le scuole in provincia di Lecco, da Casate Novo, presso l'istituto Fumagalli, il Parini di Lecco, il Fiocchi di Lecco, il Bovara di Lecco. Quindi non vedo perché io debba spostarmi su Como, quindi io ci tengo a questa provincia. Quali sono i tuoi progetti nel caso vincessi e trassi in Regione? I miei progetti, l'istruzione, la cultura, imparare, crescere. Quando io parlo di istruzione non so, c'è qualcosa che mi fa brillare l'anima, c'è qualcosa che mi apre gli orizzonti. Ho tante cose in mente, non solo per l'istruzione, ma come dicevo anche sulla disabilità, perché la disabilità è un aspetto che è tenuto in considerazione. Tutti, non c'è nessuno che accantona o che non include le persone che hanno queste debolezze, però io avrei delle cose in mente grandiose e non posso nascondere che anche se non dovessi vincere, non esiterei un solo attimo a collaborare con il vincitore, con chi dovesse farcela e portare avanti le mie idee, proporre i miei interventi, il mio contributo. Cosa ne pensi degli altri candidati che si presentano? Gli altri candidati? Auguro loro che riescano ad avere lo stesso mio entusiasmo, la stessa mia grinta e che se dovessero meritarlo, se lavorano in maniera cristallina, trasparente, pulita e onesta, spero che vincano. Tutto qui. Nel 2009 mi sono candidata con una lista che si presentava come lista civica, ma in realtà aveva delle ideologie di centro-destra, io sono fedele di natura, sono nata con queste ideologie, sono nata con una persona che si candidava a sindaco con questi principi e visto che sono fedele di natura rimarrò per sempre con questi principi. Quindi il mio simbolo è quello di Forza Italia, credo che si debba guardare tanto l'integrità della persona quando si va a votare, quindi se avete piacere, se mi conoscete, se avete constatato la concretezza del mio fare, 12 e 13 febbraio potreste esprimere la vostra preferenza scrivendo L'Oprete dopo aver barrato il simbolo Forza Italia. Forza Italia